Parliamo anche di incidenti stradali mortali nel Veneto orientale, le possibili misure di prevenzione al centro di un vertice a Musile di Piave sollecitato dal prefetto di Venezia. Vediamo. L'ultima è Nicolás Maritán di Musile di Piave, ma sono tante le vittime della strada originaria del Veneto orientale. Troppe e troppo giovani, tanto da rendere necessario proprio a Musile, un vertice sulla sicurezza stradale fra il prefetto di Venezia, il nuovo questore Lulz 4 e la sindaca. C'è la necessità di dare un segnale diverso, un segnale che è fatto di controlli, che è fatto di intensificazione di un'attività di prevenzione che parte dagli autovelox ai controlli alle persone, ma soprattutto attraverso un'idea di un progetto di comunità. Le campagne di sensibilizzazione alla guida sicura possono sempre essere efficaci. L'Urs, competente per questo territorio, ha già programmato da tempo una serie di iniziative, tra cui un video per sensibilizzare soprattutto i giovani. Perché un video che pone agli occhi di un giovane una realtà impattante, tragica, quale può essere dal vivo un incidente stradale, io penso che ciò debba far molto riflettere. Iesolo, la meta del divertimento, ma anche il punto di partenza per tornare a casa. Per la sindaca di Musile la chiusura anticipata dei locali non è però un'ipotesi percorribile. Forse bisognerebbe mettere un coprifuoco, però lì andiamo in delle imposizioni che sono veramente molto forti e a cui spero non si arrivi mai. Spero che arrivi prima la consapevolezza che forse è meglio anticipare l'orario del divertimento.